Ciao a tutti e tutte, sono molto contento di essere qui e considero, diciamo, importante che il Partito della Sinistra Europea abbia finanziato un'iniziativa che ci permette di riprendere una discussione su un tema centrale, perché credo di questo va ringraziata Loredana Marino, soprattutto la Federazione di Salerno e quelle che hanno fatto, di aver messo, di aver voluto, diciamo. Poi c'è tutto il lavoro di Laboratorio Sud, insomma c'è un lavoro di anni qua, non è che è una cosa effimera di un passaggio, c'è un lavoro di anni che in qualche modo trova una prima sedimentazione. In questo senso sono certo che questo non è un appuntamento una tantum, ma è un pezzo di un percorso, perché è concretamente un pezzo di un percorso che va avanti appunto da tempo e quindi grazie veramente tanto a chi si è impegnato in questo. Io sono piemontese come noto, anzi occitano, diciamo, lottari, insomma, quindi i piemontesi li ho conosciuti anche sul versante repressivo, diciamo, essendo valdese, e quindi a noi ci hanno impalato un trentamila persone nel nel seicento, diciamo, nel milleseicento, quindi c'è qualche dubbio. Ma la prima domanda che io mi faccio quando vengo qui è, ma il Sud, così come viene descritto, è un fenomeno di arretratezza o ci sta facendo vedere il futuro dell'Italia? Perché questo è il nodo. La mia opinione è che non sia un fenomeno di arretratezza, ma che parli del futuro. E parla del futuro, secondo me, su tutti i piani. Parla del futuro sul livello delle risorse. Le operazioni che l'Europa sta facendo, suicidandosi per diventare una colonia statunitense, produrranno un disastro sul piano economico europeo. E questo, cioè la Germania ha deciso di suicidare. Guardate, la cosa enorme, dal punto di vista delle classi dirigenti europee, è una cosa pazzesca. Ma questa roba qua vuol dire che ci saranno meno risorse, che si ridurrà il livello di vita in Europa. E il Sud è un battistrada, è un'avanguardia di questa. La democrazia, il tema dello svuotamento della democrazia e della apparente impossibilità di cambiare le cose, adesso, e il Sud, uno c'ha l'impressione pesantissima, ma secondo voi il fallimento del Movimento Cinque Stelle è solo dato dagli ignavia dei dirigenti del Movimento Cinque Stelle, che io penso ci sia pesantissima, o c'è anche un problema più grande, che qui non non contano nemmeno più i partiti del trenta per cento, perché è il presidente del Consiglio che forse riesce a dire qualcosa in un contesto in cui il potere si è centralizzato in un modo pazzesco, pazzesco. Qui la democrazia è pura finzione teatrale in cui tu puoi scegliere chi guida il treno, ma i binari sono già messi e la direzione del treno è già decisa. Tu scegli chi fa l'autista di un treno che è su quei binari. Ma questo oramai è cosa? Ecco, da questo punto di vista, la crisi sociale. Mario Brunetti, che mi piace citare perché, come dire, ha passato la vita a ragionare sulla questione meridionale, mi fa piacere che sia qui con noi. Mario Brunetti diceva, qui passiamo dai silenzi agli scoppi, alle esplosioni. Uno deve ragionare su che cosa vuol dire questo. Questa è una cosa che nel mezzogiorno c'è da tempo, diciamo, no? Gli assalti al municipio dell'ottocento e poi le successive emigrazioni dopo il fallimento dell'assalto al municipio sono un pezzo della storia del proletariato meridionale e della storia del paese. Il nord era caratterizzato, a differenza del sud, per il fatto che non aveva esplosioni, ma aveva maggiormente un tessuto di contrattazione. Cioè, riuscivi a porre le questioni, fare gli scioperi e ottenere dei risultati. La domanda è, oggi, il modello che sta passando è quello già in vigore nel mezzogiorno o è quello che c'era a Mirafiori? È quello che c'era già nel mezzogiorno. Perché a Mirafiori non contano più niente? Non so se è chiaro. Il neoliberismo è un sistema in cui il capitale non contratta perché è così ricco e così potente che è in grado, se tu gli fai sciopero in un posto, di chiuderti quella fabbrica e di fare l'investimento da un'altra parte. C'è un eccesso di capitale, di ricchezza, che viene usato contro i soggetti subalterni perché tu non sei nemmeno più nella condizione di essere necessario per la sua valorizzazione. La forza del movimento operaio era che i padroni investivano e avevano bisogno di valorizzare quel capitale e quindi dipendevano da te che ci lavoravi lì dentro a valorizzare. Oggi la loro potenza è che hanno una ricchezza così alta che sono in grado di rendersi relativamente indipendenti dal tuo lavoro perché riescono a spostare. Meno degli operai cinesi, più di quelli italiani. Allora in questo senso anche la condizione di percezione di impotenza nella difficoltà a riuscire ad obbligare il padrone, il capitale, chiamatelo come volete, a discutere con te, a venire a patti, questo senso si sta diffondendo. In questo senso io penso che il Sud parla del futuro, non solo dell'Italia ma tendenzialmente anche dell'Europa, ma sicuramente dell'Italia. Allora se è così, se questa cosa ha qualche elemento di verità, secondo me il punto su cui noi dobbiamo riflettere è come diavolo si fa a modificare questa tendenza. Perché altrimenti, badate, noi ci possiamo dare gli obiettivi più belli dell'universo, ma se non abbiamo la leva su cui fare per modificare questa situazione, tu rimani dentro il meccanismo dell'impotenza che non è solo un fatto depressivo o di depressi, ma rischia di essere un fatto che fotografa la realtà. Perché il punto è questo. Il senso di impotenza non è che emerge solo perché la gente, diciamo dopo il covid, è più depressa. È una percezione che vive quotidianamente questa roba qua. E noi abbiamo il problema che, come diceva il presidente Mao, ribellarsi è giusto, ribellarsi è possibile. La gente si ribella quando inizia a pensare che è possibile, cioè che vede, che intravede. Allora io penso che il vero discorso politico che abbiamo è di come riusciamo a usare tutte le possibilità che ci permettano di costruire un percorso di conflitto che rompa l'elemento dell'impotenza che altrimenti attanaglia e divide i movimenti. Perché badate, se l'idea che passa e che non ce n'è per tutti, chiunque agisca un conflitto viene percepito da coloro che gli stanno a fianco come un potenziale concorrente. Per cui se i soldi vanno a loro non verranno più a noi. Ed è il motivo su cui il federalismo differenziale, tutta questa roba di spezzettare, attiva consensi nei territori in cui fai percepire che gli arriverà di più. Non discuti più del fatto che in Italia c'è una ricchezza concentrata enorme che non viene messa in discussione. Abbiamo il risparmio doppio di quello tedesco. Tutto concentrato nel 10% più ricco. Di quello non discuti. Discuti di come ti fai la guerra tra i poveri. Ma rompere sto meccanismo è il punto. Allora io vedo, vado rapidamente alla fine, quattro punti fondamentali. Primo, va costruita una sinistra populista, chiaramente populista, con le caratteristiche che venivano descritte. Da Luigi, ma non solo, da Loris Caruso. Io penso che noi dobbiamo essere al chiaro su questo. Il Movimento 5 Stelle è stato l'ultimo movimento che ha interpretato, che ha saputo dare una speranza agli strati popolari di questo paese a partire dal mezzogiorno. Noi possiamo girarcela come vogliamo, ma o siamo in grado di entrare in sintonia con quel livello di speranza che si è costruito, oppure se pensiamo che torniamo a come eravamo prima, secondo me sbagliamo completamente le cose. In questo senso va costruita consapevolmente una sinistra populista. Per me l'aggettivazione non è un'aggettivazione negativa. Ovviamente poi bisogna discutere nel merito. Qual è l'aspetto negativo del populismo? È tendenzialmente la distruzione dei corpi sociali intermedi in nome dell'identificazione col leader. E io penso che noi dovremmo in questo chiamo sinistra populista aveva un secondo tratto e cioè che servono i leader, serve la capacità di produrre un sogno, un'identificazione, ma serve la costruzione della comunità e delle istituzioni comunitarie sul territorio come densità democratica e di conflitto. E questo secondo me è l'altro punto che abbiamo. Non basta il populismo, serve una sinistra populista in grado di agire a quel livello lì, ma serve la capacità di costruire comunità sul territorio. Allora qui venivano dette delle cose da Pasquale, da altri. A me pare evidente che il tema che poneva Pasquale e cioè sia le istituzioni, il comune, sia la capacità di costruire idea di comunità, sia il tema che poneva Giovanni ieri e cioè quello dello sviluppo autocentrato. Cioè noi non possiamo inseguire un modello di sviluppo che prevede la nostra distruzione. Bisognerà porsi il problema di come valorizzi le risorse che ci sono sul territorio dentro un'idea di convivenza civile che non insegue quella distruttiva del neoliberismo, ma questo implica un'autonomia culturale. E quindi Giovanni diceva giustamente lo sganciamento, lo sviluppo autocentrato. È quello che hanno fatto in America Latina in larga parte. È la discussione che c'è in Bolivia di come non può essere il modello industrialista appunto, ma deve essere un modello che sviluppa la comunità, che permette. Allora io penso che noi dobbiamo costruire un laboratorio su questo. Di come l'ipotesi populista di sinistra si connette alla costruzione di comunità e come questo sta dentro un'idea che non è che noi dobbiamo inseguire la barriera, e finisco, ma che noi dobbiamo proporre un percorso che metta al centro i bisogni sociali e il soddisfacimento dei bisogni sociali e a partire da questo misura la qualità dello sviluppo e supera l'idea del prodotto interno lordo come unico criterio. Non è la decrescita, perché solamente la decrescita è infelicissima. Il punto è un altro modello basato sui valori d'uso invece che sui valori di scambio. Questo è il nodo. Demercificare. Questo è il punto. Io penso che ci sono esperienze, il problema è portarle a disegno politico, a proposta politica. Così come mi sembra che l'altro nodo è l'identità. L'identità. Questo sud è semplicemente un sud che insegue il nord o la sua identità euro-mediterranea viene rivendicata come tale. Anche questo secondo me è un pezzo. Perché se no, se no i Savoia continuano a vincere, cazzo. Perché ti hanno colonizzato la testa. Invece tu devi riuscire a produrre una tua idea di identificazione. Allora io vedo questi nodi qua. Secondo me in questi nodi poi c'è la formazione, c'è tu perché è tutto da fare diciamo, no? Però secondo me forse, perlomeno questa è la cosa che vedo io, può essere che questo possa ipotizzare un percorso politico, un'idea politica che esce dalla lamentela e propone un'idea, cazzo, propone una possibilità di cambiamento. Perché qui noi dobbiamo uscire dalla postura della lamentela per costruire orgogliosamente un pezzo, un pezzo. Questo a me sembra il nodo. E finisco, giusto, penso che questo tipo di ragionamento per le discussioni che ho fatto con un po' di compagni greci, francesi e spagnoli e anche portoghese, trovi delle attenzioni negli altri partiti e forse una delle proposte che potrebbe uscire è che si potrebbe ipotizzare di fare meglio di come abbiamo fatto questo, un incontro tra diciamo sul tema dell'euro mediterraneo in senso stretto e tra i partiti del sud dell'Europa, perché questo problema non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno degli altri.